Ciao Busta, a vent'anni di distanza microchip emozionale diventa temporale. Riaprire quel bagaglio, che è un po' una valigia che Subsonica portano con sé da due decenni, che tipo di emozione ha suscitato? Beh, è stato bello. Allora, l'emozione è garbata, nel senso che è comunque un disco che ci ha accompagnato durante tutti questi anni, che amiamo, che abbiamo suonato tantissime volte, che ha fatto parte della vita, anche grazie a Dio, di tante persone. Quindi non è un'emozione forte, però è un'emozione abbastanza avvolgente. È come quando apri, come dire, più che l'apertura alla valigia è vedere quello che è dentro e sentire il profumo. Quindi è l'odorama, sì, è il fatto di sentirti a casa, di sentirti a proprio agio. Tra l'altro di sentirti a proprio agio, lavorando con musicisti temporalmente lontani da te, perché comunque siamo a lavorare con musicisti contemporanei di vent'anni dopo, rispetto alla nascita di questo disco, e sentirti comunque a tuo agio vuol dire che è veramente casa. Io credo che il senso di responsabilità sia assolutamente precedente a tutto questo. Fare musicista vuol dire essere responsabile, perché il musicista ha la responsabilità del racconto. Comunque siamo menestrelli 2.0 di quello che succede, della vita contemporanea, della società, dei sentimenti che la società esprime. Quindi la responsabilità vale sempre. Siccome la musica è un campo vastissimo, c'è veramente spazio per tutti, però il microfono rimane una responsabilità. Senza essere particolarmente rigidi non è questione di essere modelli, però ogni volta che tu canti, sapendo che entri non nella casa delle persone, ma nella vita delle persone, noi siamo le parole che molto spesso le persone non hanno. Quando eravamo piccoli, quando ero piccolo, io scrivevo lettere d'amore, bellissime lettere d'amore, usando testi di altri, delle canzoni che amavo. Quindi se pensiamo a questo, se pensi veramente di essere la voce di chi qualche volta non è capace a dire quell'emozione, allora il senso di responsabilità arriva molto prima. Con molta naturalezza. Con molta naturalezza perché nel lavoro c'è già un'affinità di principio. Non un'affinità magari musicale, strettamente musicale, ma sicuramente di intenzione, di attitudine. Quindi non credo che siano stati fortunati, ma probabilmente era semplicemente giusto che ci fossero questi artisti, perché devo dire che tutti i pezzi che compongono la tracklist del disco sono pezzi giusti, giusti per le persone che le interpretano o giusti per noi. Molte volte li abbiamo risuonati, reinterpretati, rilavorati, abbiamo giocato ancora con la musica, quindi considerando e considerando le canzoni con un'accezione estremamente laica, la musica può essere toccata, non è intoccabile, non esiste per definizione una musica intoccabile, perché sennò non avrebbe senso neanche farla. Con un pochino di intelligenza emotiva, ecco. È logico che siamo musicisti, abbiamo delle... ascoltiamo gli artisti che ci stanno intorno e crediamo, insomma. Possiamo credere che alcuni pezzi vadano meglio, possano essere meglio. Ci piacerebbe semplicemente anche una questione di desiderio, ci piacerebbe sentirli interpretati da. E quindi è un concorso di meriti e colpe. Qualcuno ha chiesto, qualcuno è stato affidato, però è stato un gioco veramente molto molto leggero. La parola sta abbastanza bene, nel senso che se ne usano tante, quindi possiamo dire serenamente che è viva. Si usano probabilmente troppe, o meglio, si usano troppe volte le stesse parole, ecco. In quello si è un pochino perso il senso della complessità. Il vocabolario si è oggettivamente un pochino impoverito. Poi, è semplicemente, o probabilmente sarà semplicemente uno specchio della contemporaneità, d'altronde non possiamo esimerci dal fatto che questo è il tempo in cui stiamo vivendo. Però, se tu mi chiedi in che stato è la parola, essendo ce ne tante pure troppe in giro, direi che viva e viva. Ci fosse un pochino più di complessità e se il vocabolario fosse più complesso sarebbe probabilmente anche più facile esprimere i concetti, visto che tra l'altro noi viviamo in una nazione che, per definizione, è una lingua estremamente ricca di sfumature e di significati. Ma sì, più che una domanda lo prendo e lo prendiamo come un complimento, perché vuol dire avere scritto qualcosa che ha una sua dignità, non dico storica, però quantomeno temporale. Se dopo vent'anni un disco ti suona ancora, nonostante parlassi di contemporaneità, non è il nostro primo disco, il primo singolo di Subzioni che si chiamava Istantane, che era di per sé un manifesto di racconto assolutamente fatto sull'impressione di quello che avevamo intorno. Se dopo vent'anni ci rendiamo conto che quello che abbiamo scritto mantiene ancora un grado di attualità convincente, vuol dire che probabilmente abbiamo fatto quello che dovevamo, ha senso essere qui ancora dopo vent'anni a raccontarci. Siamo sirene moderne noi. Io ti ringrazio per la domanda. Questa è una bellissima domanda, a cui purtroppo non posso ancora darti risposta, perché poi serve in tutte queste parole anche tanto onestà, non lo so. So che sarà un tour molto bello perché parto dalle basi. Le basi sono che in vent'anni qualche concerto carino l'abbiamo fatto, qualche produzione onesta l'abbiamo fatta. Quindi adesso cominceremo a pensare al tour che sarà sicuramente molto bello, perché ci teniamo ogni volta che mettiamo i piedi sul palco, perché è la parte più importante della nostra vita stare in giro a suonare, a fare musica. Quindi sarà un tour bello. Non vediamo l'ora di incominciare a prepararlo. Ci saranno sorprese, questo è sicuro, perché prima volersi sorprendere siamo noi. Altrimenti sarebbe veramente difficile dopo vent'anni avere la stessa energia sul palco. E non lo dico io, ma pare che ce la riconoscano.